Ciao a tutti ragazzi, bentornati sulle doc. Oggi torniamo a parlare di One Piece, in particolare parliamo di un argomento che ultimamente sta tornando sempre più in voga tra i fan. In realtà è una teoria, una supposizione che dice i frutti del diavolo sono vivi? C'è qualcosa, qualcuno al loro interno? È una cosa che in realtà suscita domande sin dal primissimo capitolo, perché ci sono vari indizi nella storia di One Piece che indicherebbero che effettivamente questi frutti del diavolo, o meglio alcuni di loro soprattutto, sono vivi, c'è qualcosa al loro interno, sono legati a un certo demone del mare, come dice un certo personaggio anche molto molto importante, tutti i vari indizi che indicherebbero proprio questa cosa qua. Come sapete qua su Redoc diciamo che preferiamo dare una serie di indizi piuttosto che una mega teoria, non so neanche in realtà dove questi indizi possano portare in realtà. Difatti ragazzi, come sempre, questi indizi che andremo ad elencare servono a voi per commentare con la vostra teoria, quindi mi raccomando fateci sapere che cosa ne pensate se secondo voi effettivamente questa cosa può essere vera o semplicemente alcuni personaggi di One Piece lo utilizzano come modo di dire, oppure, ancora meglio, se semplicemente Oda, il nostro maestro, il nostro autore di One Piece, non andrà mai, mai a approfondire questo argomento, cosa che è anche plausibile, io direi che possiamo cominciare. E cominciamo proprio dai primissimi capitoli. Quando ci vengono presentati i furti del diavolo, in particolare ci viene presentato il primo frutto, quello di Luffy, quello che a inizio si chiamava Gomu Gomu Nomi. Difatti Shanks, preoccupatissimo con Luffy perché ha mangiato quel frutto, dice che non può più nuotare, perché adesso è impossessato dal demone del mare. In generale viene detto che c'è questo demone, in realtà è una cosa molto molto generale, e viene detta per letteralmente una vignetta e poi non si citerà mai più per i prossimi 26 anni. Però ci sono dei riferimenti molto particolari. Per esempio, quando ci viene spiegato che non si possono mangiare due frutti del diavolo, viene proprio spiegato che come se i poteri che sono dentro questi frutti vanno in contrasto, e quindi in poche parole semplicemente si esplode dopo aver mangiato due frutti del diavolo. Non viene detto esplicitamente spiriti, fantasmi, ma nel momento in cui ci viene spiegato c'è una vignetta in cui effettivamente si vede una specie di spiritello dentro questo frutto del diavolo. Potrebbe essere un riferimento molto molto simile, per esempio, a quello di cui abbiamo imparato poco fa, quello citato a Shanks nei primissimi capitoli. E queste sono già delle cose molto interessanti, ma se andiamo ancora avanti, arriviamo a un argomento che un po' conferma quest'ipotesi. E sono, per esempio, alcuni frutti del diavolo che non sono stati dati a esseri umani, a animali, quindi a esseri viventi, ma sono stati dati a oggetti. Difatti nel corso della storia abbiamo visto che alcuni frutti, in qualche modo, ancora non ci sono stato spiegato, ma verosimilmente dovremmo scoprirlo ora che siamo ad Egghead, diciamo che questi frutti possono essere stati dati a oggetti, che prendono vita letteralmente. Per esempio, lo vediamo per la prima volta questa cosa dalla Basta, dove vediamo un Inuinunomi modello Bassotto, quindi il frutto del diavolo tipo cane, del tipo Bassotto, che viene dato al bazooka di uno dei membri della Baroque Works. E questo bazooka funziona, ma allo stesso tempo è vivo. Un altro esempio fondamentale, per esempio, lo vediamo a Ennis Lobby, dove vediamo Funkfrid. Chi è Funkfrid, ragazzi? È l'elefante di Spandam, che in realtà non è il suo elefante, e la sua spada, che anche lì è una spada che ha il frutto del diavolo dell'elefante. In più abbiamo anche questa cosa a Uano, perché abbiamo nella casa di Tengu Yama Itetsu una teiera che è il frutto del diavolo, semplicemente, del Tanuki. La vera domanda è, ma se questi tre oggetti sono in vita, di chi è la coscienza? Cioè, di chi è la vita che noi vediamo? Ecco, secondo me, molto semplicemente, questi personaggi, questi animali, non hanno una coscienza che parte dalle armi, ma l'animale che vediamo è direttamente la coscienza del frutto. Perché è plausibile, quindi, che effettivamente alcuni frutti del diavolo abbiano una coscienza, a modo loro. Soprattutto quelli zoane, questo andrebbe a spiegare, quindi, di chi è la mente quando vediamo un'arma o un oggetto fruttato. È una cosa che, secondo me, è plausibile e non solo. È stata, di fatto, confermata. Non sappiamo, in realtà, in che misura. Quindi, effettivamente, quanto questa coscienza può muovere, diciamo, il frutto, quanto, cosa possono fare. Però i Gorosei, ultimamente, quindi nel capitolo letteralmente 1044, se invece guardate l'anime, nell'episodio 1071, spiegano questa cosa. Si lasciano sfuggire durante un loro discorso che, effettivamente, tutti i frutti zoan hanno una loro coscienza. Cosa che, quindi, secondo me, può andare tranquillamente a spiegare il discorso delle armi e dei frutti del diavolo. Soprattutto, dicono i Gorosei, i frutti del diavolo mitologici. Perfetto. E questa cosa la utilizzano per spiegare come ha fatto Lito Itomonomii, modello Nika, che è l'ex Gomu Gomonomii, a scappare per 800 anni al governo mondiale. Ora, perché prima non ho detto, non sappiamo in quale misura questi frutti hanno una coscienza? Perché, a quanto pare, i Gorosei collegano la coscienza dei frutti del diavolo al fatto che quel frutto in particolare, che è uno zoan di tipo mitologico, sia riuscito a scappare. Quindi è la loro coscienza che l'ha permesso, la coscienza di quel frutto lì, e quindi, effettivamente, quel frutto qualcosina può fare. Diciamo, facendo 2 più 2, esce fuori questo. Ma quindi, cosa vuol dire? Che il frutto da solo si può muovere? Io credo di no. Io credo che però, magari, il frutto possa influenzare qualcosina. Possa influenzare, per esempio, le persone che ha intorno. D'altronde è anche una caratteristica del Lito Itomimo, dell'Onika. Rende tutto più divertente, tutto intorno a te. Un po' come fosse il risveglio di un frutto paramiscia. Però potrebbe spiegare molte cose. Potrebbe aver anche attratto, per esempio, Luffy. Di fatto, quel frutto lì era in uno scrigno e non doveva essere mangiato. Luffy l'ha trovato, aveva fame e se l'ha mangiato. Ed è una cosa che, semplicemente, potrebbe aver fatto il frutto. Il frutto potrebbe aver attratto Luffy in qualche modo. E qui si andrebbe a spiegare la coscienza dei Gorosei, che i Gorosei citavano quando parlavano dei frutti del diavolo. Ovviamente questa è una teoria, non è mai stata spiegata, non è mai stata vista. Però andrebbe a spiegare, appunto, il discorso dei Gorosei. D'altronde, altre volte in cui, per esempio, un frutto del diavolo sembra aver attratto un futuro utilizzatore è quando vediamo Teach, che avrebbe per la prima volta lo Yami Yami. Anche se lì, di fatto, canonicamente, anche se è molto strano rispetto agli altri, lo Yami Yami no Mi è un frutto roja. Dico che è molto strano perché, semplicemente, tutti i frutti roja hanno l'intangibilità, mentre Teach, invece, non ce l'ha, ma ha il potere aggiuntivo di annullare il potere degli altri frutti del diavolo. Diciamo che, comunque, in generale, questo discorso dei Gorosei è molto criptico perché, letteralmente, è stato visto, cioè, è stato detto solo ed esclusivamente in un capitolo e non è stato neanche approfondito più di tanto perché se andate a recuperarvi, letteralmente, il capitolo 1044, quel discorso lì occupa solo ed esclusivamente una pagina. Però potrebbe essere un discorso molto, molto importante. Ora, per concludere questo video, dovremmo parlare dei risvegli. E per farlo voglio parlare anche dell'ultima saga, ragazzi. Quindi, se non siete impari col manga, io vi consiglio di chiudere questo video perché è giusto così. Quindi, io direi di iniziare a parlare, appunto, delle informazioni che abbiamo da Egged. Difatti, abbiamo queste informazioni aggiuntive che riguardano i risvegli, in particolare quelli dei frutti Zoan. Alla fine avrete capito che quando si parla di frutti del diavolo vivi, della coscienza dei frutti del diavolo, per lo più si parla di frutti di tipo Zoan. Perché, appunto, per i Roja e per i Paramisha ancora non abbiamo avuto nessuna informazione a riguardo. Quindi, per adesso, quella tipologia di frutti, ragazzi, la mettiamo da parte. Queste sono informazioni che riguardano sia Luci, perché è Luci che ci dice queste cose, ma anche Kaido. A quanto pare, il risveglio del frutto del diavolo, semplicemente, secondo Kaido, quando si tratta di uno Zoan, è quando, semplicemente, la mente e il corpo dell'utilizzatore riesce a sopportare il full potential, quindi il potenziale pieno del frutto che è stato mangiato. Sia la mente che il corpo. E qua la mente è anche importante per quello che, invece, ci dice Luci durante la saga di Egged. Difatti, scopriamo che il risveglio è esattamente quello. Bisogna, semplicemente, non farsi sopraffare le menti degli animali. E a quanto pare, i frutti risvegliati, per esempio quelli di Impel Down, sono frutti risvegliati in cui l'utilizzatore si è fatto sopraffare dalla mente dell'animale. E quindi, anche qui, diciamo che arriva la stessa domanda che ci siamo fatti con le armi. Se noi prendiamo, quindi, i risvegliati di Impel Down, quindi il Minocoala, la Mino Zebra, il Mino Rinoceronte, loro hanno una coscienza non umana, non sono umani, hanno una coscienza da animale. Quest'animale qui, quindi, possiamo dire con queste informazioni, che si trova all'interno del frutto del diavolo. Quindi, sì, il frutto del diavolo, i frutti del diavolo tipo Zoan, hanno una coscienza. Questa cosa sarà importante per il futuro di One Piece? Sinceramente non lo so. Secondo me, se questa sarà una cosa importante, semplicemente servirà a spiegarci, magari, da dove vengono i frutti del diavolo, come sono nati, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, Oda, anni fa, mi sembra più di dieci anni fa, disse, rispondendo a un SBS, che noi avremo tutte le risposte riguardo i frutti del diavolo, e soprattutto riguardo alle armi che hanno il frutto del diavolo, quando vedremo un certo scienziato. Ora siamo in una saga in cui, effettivamente, il suo scienziato è uno dei protagonisti, quindi dobbiamo ancora, anche solo, citare l'argomento armi e frutto del diavolo. Di fatto, Vegapunk ha parlato della sua teoria delle origini dei frutti, Ma, appunto, è una teoria, e secondo Vegapunk, semplicemente, questi frutti provengono dai desideri delle persone, e quindi vanno contro madre natura, ed è per questo che l'oceano, che rappresenta la natura, respinge gli utilizzatori del frutto. Ma, una volta detto questo concetto, Vegapunk sottolinea che quella è una sua teoria, una sua ipotesi, non lo sa in realtà. Quindi, questo argomento, per ora, in realtà, non dobbiamo scoprirlo, o forse, Oda, semplicemente, non lo vorrà mai approfondire, ed è anche giusto così. Ma, il discorso armi e frutti del diavolo, invece, quello rimane aperto. Ci sono dei personaggi, anche nella ciurma, che, secondo me, si meritano un bel frutto del diavolo, magari nelle armi. Sarebbe una cosa fighissima, secondo me. Ragazzi, io direi di concludere questo video. Come al solito, quando si parla di One Piece, abbiamo dato 3.000 informazioni. Ora, tocca a voi tirare le somme. Secondo voi, queste sono informazioni importanti. Rivedremo questo argomento in futuro. Fatemelo sapere con un bel commento. Noi, comunque, ci vediamo prossimamente con altri video a tema One Piece. Mi raccomando, iscrivetevi, visitate il nostro store, fate tutto quello che dovete fare e noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, ragazzi.